Il tema delle aree interne che rappresentano gran parte del territorio nazionale diventa sempre più di forte attualità in Italia e di conseguenza anche in Campania. Si tratta di un'azione diretta al sostegno della competitività territoriale, sostenibile al fine di contrastare il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese. Il tema viene guardato con grande attenzione e con forte preoccupazione anche da parte delle associazioni e non solo dagli enti coinvolti. Ma a che punto siamo in Campania e nell'Alto Casertano? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Associazione Matese in Movimento, Ancelo Milo. Partendo da quello che è stato il momento complesso della pandemia, noi in quell'occasione lanciamo l'iniziativa di creare attraverso la sinergia di tutti i comuni un patto per lo sviluppo delle nostre aree che poi praticamente si è sviluppato attraverso una serie di azioni, sempre di sollecitazione alla pubblica amministrazione perché l'attenzione che noi rileviamo da parte delle istituzioni non è quella che ci dovrebbe essere perché alcune carenze di fatto si superano se si fanno degli interventi mirati. Uno per tutti valga quella che è stata la nostra azione per la strategia nazionale aria interna dove l'amministrazione comunale di Pirimonte insieme con quella di Valle Agricola che già curava da tempo questo filone abbiamo portato a caso il risultato di aver fatto riconoscere la nostra area come area interna e questo già è stato un primo passo che adesso però si dovrà focalizzare attraverso quella che è praticamente un piano di orientamento strategico del territorio che in pratica poi porterà a dire a tutte le amministrazioni quali sono le necessità delle proprie popolazioni. Altro elemento che praticamente ci ha visti impegnati è che noi abbiamo affrontato anche se non riguarda specificamente l'area interna del nostro territorio ma riguarda l'area del Monte Santa Croce quando nel 2020 il Ministero attraverso un intervento del Ministro Bellanova di allora decise di introdurre nuovi limiti allo svantaggio territoriale e quello ha comportato che alcuni comuni di quell'area, Cardevantro, Conga della Campania, Mignano Montelunco Presenzano, siano praticamente usciti come aree svantaggiate e siano stati introdotti altri territori che appartengono al litorale tipo Cello, Regangellannone, Grazzanisi che di fatto ne sappiamo hanno sicuramente meno svantaggi. Altro intervento che abbiamo portato avanti è stato quello legato alla capacità di mettere insieme tutta una serie di amministrazioni per fare un progetto unico per il turismo di tutto il Matese sempre con l'appoggio delle amministrazioni locali stiamo cercando di portare a buon fine questo risultato l'auspicio e che poi praticamente la burocrazia ci aiuti in questo perché purtroppo questo rimane ancora un grosso limite. Presidente, si parla del parco nazionale del Matese ma vi sembra un parto molto sofferto? Attualmente ci troviamo ancora per quelle che sono le nostre conoscenze in un momento di stasi le uniche cose che possiamo aggiungere come novità sono quelle che abbiamo apprese dalla stampa da qualche mese quando la Regione ha affidato al Presidente del parco regionale del Matese l'incarico di verificare sia per la parte del territorio campano sia per la parte del territorio molisano qual è lo stato dell'arte delle perimetrazioni perché se non si raggiunge questo obiettivo il parco purtroppo nazionale stenderà sempre a decollare. Da Piedimonte e Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it